OGB Bene siamo dentro, andiamo a riprenderci ciò che ci appartiene YouTube libero Ciao a tutti i membri del branco Sono sempre il vostro ala lgb E oggi mi ritrovo qui alla sede del tubo assieme ad una squadra di youtubers super incazzuti Per impedire ai roboricchioni che analizzano i video Di avverire alle nuove norme del copy jesus right per poi farci chiudere i canali E testa di minchia ma a me non mi presenti Ah è vero, per questa missione della massima importanza Ho deciso di portare assieme a me un ospite molto speciale Sciore sciori Date il caloroso benvenuto al genio dei glit Dei bug e delle stronzate varie Ovvero il grandissimo maxa strazze Direttamente dalla community di gna gna hit Scusa non ho sentito bene, come l'hai chiamata? Scusa 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 volevo dire guagna Ti prego non farmi del male che già il fatto che qui i roboricchioni mi stanno aprendo il culo Basta e avanza Ciao siamo i robot analizzatori e presto segnaleremo tutti i vostri video Ok ora che tutti ci siamo presentati possiamo andare avanti Sapete com'è, vado un po' di fretta Il prossimo volo diretto a San Paolo parte tra un'ora e mi tira al culo Farmela a piedi dalla California fino a casa mia in caso dovessi perdere l'aereo Fidati che non tornerai mai più a casa Sì ma che cazzo, se mi devo ritrovar le copiette ad ogni angolo Facevo prima ad andarmene a giocare a Ghosts Sento pulsa di robot analizzatore della minchia Attenzione elevato video con contenuti di pezze fatti a Amidezao e Pinciapullio Nwaga da Dogo Sì ma è normale che quando ammazzo uno di quei distributori di bibite fatti male Mettano degli strani suoni e parole a minchia Sì sì non ti preoccupare Vuol dire che li hai colpiti nella brona dove elaborano le loro informazioni Quindi mi stai dicendo che dovrei mirarli sempre al culo Secondo la loro logica sì Ma siccome i nostri amici della Google hanno deciso di far assomigliare i loro frullatori mobili il più possibile delle persone reali Dovresti sempre mirare alla testa Merda mi stai confondendo un casino Ando il cervello nel culo Ma i culo hanno il testa Ma che cazzo Pensa delle facce da culo e fai prima Ah beh allora è facile Pensa alle facce da culo Pensa alle facce da culo Pensa alle facce Ok ok hai reso l'idea A tutte le macchine analizzatrici Ordine immediato di inizializzare le operazioni di controllo su tutti i video caricati Merda ragazzi Dobbiamo impedirmi subito di eseguire i controlli dei video Non abbiamo un minuto da perdere Speriamo di riuscirci Perché stasera devo caricare un video su Agna Dove faccio un gameplay Flowly Sniper No scupa Kimbo Provolone Mortadella Su Call of Duty Altrimenti Te Black Game Non mi farà giocare ai Pokémon per una settimana Che palle Eppure è finita la musica di sottofondo Attenzione il seguente video presenta tracce audio di terze parti La trasmissione verrà sostituita Ciao ragazzi Sono Carmelo Vengo da Taranto E niente La troia ci ho messo un'ora e fa sta strunzato Abbe dai Almeno quella troiata ha più senso del video di F3 Friends Che ti mandano quando ti bloccano un video Completamento delle analisi al 20% Dai che siamo ancora in tempo Facciamo vedere a questi robominchia ti comando Ma che cazzo adesso pure i robot si mettono a fare Spider-Man sui tetti Segnalare i video di Johnny Creek è risultato utile Guarda come cecchino bene Guarda come cadi male Tu i video di Johnny Creek non li tocchi Si ma ti decidi a morire oppure vuoi un invito scritto Allerta A tutte le macchine analizzatrici Annullare le fasi di analisi dei video E passare allo sterminio dei ribelli presenti in tutta l'area Siamo strafottuti Finalmente iniziamo a fare sul serio Venite qui che adesso prendo le vostre chiappe metalliche E vi do più mazzate del farbero di Dark Souls Dai Max ripigliati un po' che stai facendo più morti te che io Quando ho giocato per la prima volta a Ghosts Ci sto provando Ma qui i nemici sono immortali E in più non mi trovo poi tanto bene con le armi E bravo il mio Max Vedo che finalmente stai assaporando uno sparatutto dove le skill scontano Ma schicazzi Andiam andiam Ai robo ricchioni il culo facciam Secondo il mio satcom che ho posizionato su prisombra con ora fa Qui ci deve essere qualcuno Sorpresa Ma si è vaporizzato Ah ah ma possibile che in nessun gioco ci sia un radar che non sia made in Cina Ehi ad io mi sono rotto di tirare sempre le sassate alla gente Potresti dirmi come cazzo faccio a prendere un'arma decente Hai per caso premuto il tasto 3? Si certo perché questa domanda Bene allora vedi di imparare come usarli Perché li avrai sempre come arma da qui fino alla fine della rivolta Uffa che palle Qui è più difficile ammazzare qualcuno che prendere una cam su Ghosts Ehi la cam è già mia guarda mamma sono diventato Gesù Cristo Dai va la piuttosto vedi di scamperarti da li aiutami che qui sto facendo quasi tutto io Guarda che io non sto camperando sto facendo la guardia queste casse piene di soldi appartenenti ai partners italiani Non vi preoccupate che Max vi porterà a casa al sicuro Almeno lasciami qualche mazzetta Vai tranquillo bro Errore software algoritmi direzionali non disponibili E amico ti è per caso trasciato internet explorer in testa Eccoti sistemato Aia come osi punzecchiarmi da dietro Beccati questa mini mob e non scassarmi la cappella Forza analizzatori di sta minchia Venite qui che prendo i vostri circuiti e li faccio sbrilluccicare come un albero di Natale Rilevata attività nemica Dai vieni avanti che sono qui Porta i miei saluti a Terminator lattina di merda Stato critico A tutte le macchine Abbandonare l'area immediatamente I baiiii i roboricchioni si stanno ritirando Abbiamo vinto Lavoro eccellente ragazzi Questa parte di Youtube è in mano nostra e presto Toccherà anche alle altre, sterminate ogni attività arbotica nell'aria E poi possiamo andarcene A questo ci pensiamo io e il resto della squadra Che posso dire? Spero che questa piccola battaglia vi sia piaciuta Perché ce ne saranno molte altre prima che Youtube venga liberato Inoltre ricordo ai miei iscritti di non mancare al dilobino di Natale Tutte le macchine all'interno dell'area sono state eliminate Possiamo tornare a casa con la vittoria in pugno e i big money nelle tasche Questo è tutto dal vostro ala LGD Commentate ed iscrivetevi Ciao e alla prossima Un saluto anche da Max E non camperate Anche a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti